Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, code in uscita a Firenze Sud, proverando da Bologna, in uscita a Firenze Scandicci, nelle due direzioni, per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, rallentamenti e code per traffico, verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivia 11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriviamo in Fipilico di attratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze per un autobus ATAF in avaria in piazza Indipendenza, la direttrice verso Via Nazionale al momento bloccata. E prima di salutarci nell'ambito dei cantiari tramvia, anche questa notte in orario 22.05 restringimenti di carreggiata nel sottopasso Rosselli Strozzi. Muoversi in Toscana Infine, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!